Ciao, sono Carina Martinez Piaggio, coediatrice del portale web simedica.tv. Noi di Simedica supportiamo il progetto di raccolta fondi di Farmala24 per creare il primo nutraceutico italiano per combattere la fibromialgia, andando ad agire sui sintomi della stessa. Ma ora sentiamo Marco Camnazio, titolare di Farmala24, che ci parlerà di questa importantissima campagna di crowdfunding. Grazie Carina, io mi chiamo Marco Camnazio, sono titolare di Farmala24, una giovane azienda italiana nel settore della nutraceutica. Insieme ai nostri collaboratori e ricercatori abbiamo l'interesse nel realizzare un prodotto che allevi sintomi dolorosi nella fibromialgia. Per farlo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi e questa raccolta fondi ci servirà per 1. Coprire i costi già sostenuti per quanto riguarda la ricerca della formula. 2. Sviluppare il primo lotto di prodotto. 3. Creare una rete vendita attiva su tutto il territorio nazionale. 4. Sostenere i costi di una comunicazione alla popolazione generale del problema. La fibromialgia è una realtà sempre più comune in Italia e sempre un maggior numero di persone ogni giorno soffre di questo stato particolare su cui non c'è informazione data la particolarità di questa realtà. Per realizzare questo progetto ambizioso abbiamo un visione del vostro supporto. La fibromialgia attualmente non ha risoluzioni ma come sostengono i nostri ricercatori è possibile agire sulla sintomatologia dolorosa che è il disagio maggiore. FarmLab24 è una realtà giovane e solida nel campo della nutraceutica italiana e con il vostro aiuto desidera raggiungere l'obiettivo di creare il primo nutraceutico italiano in grado di alleviare gli stati dolorosi della fibromialgia. Grazie Marco. Speriamo di raggiungere il più presto possibile il nostro obiettivo. Invito a tutti voi in ascolto a guardare le ricompense per le donazioni nell'apposita sezione. Un caro saluto.